ma buonasera buonasera a tutti dalla voce di chi non la voce oggi me l'ho ripromesso di fare un video molto spontaneo cioè avevo deciso di cliccare su avvia registrazione e nel momento proprio presente decidere di cosa parlare e proprio un istante fa osservando questa mia felpa questa mia maglia verde ho pensato ad una cosa forse perché mi segui da tanto avrete già visto questa felpa compare già in video probabilmente di sette anni fa possibile insomma non è la prima volta che compare in video della maglia che do da parecchi anni forse una decina è una maglia ancora integra non ci sono bucchi non ci sono lacerazioni e quindi senza problemi la porto ancora e cosa ho pensato osservando questa maglia ho pensato che ne ho anche tante altre di maglie che ho da parecchio tempo tra l'altro questa maglia qui non l'ho nemmeno comprata l'ho ereditata da mio zio che è giovane come me ha cinque sei anni in più di me siccome lui ha spesso tante felpe tante maglie si trova con tanti indumenti molte di quali sono in ottime condizioni anziché buttarli o darli a sconosciuti di dame e quindi io compro pochissimo per quanto riguarda il vestiario e oltre a questo stavo riflettendo sul fatto che alle volte mi capita di avere magari una maglia maniche lunghe una maglietta maniche corte con qualche piccolo buchetto mi è capitato l'altro giorno mi sono accorto che un maglioncino mio quello non mi ricordo se l'avevo ereditato l'avevo comprato io anni fa avevo un piccolo bucanino e poi confrontarmi con gli altri mi sono reso conto di un delirio collettivo ovvero che per questa nostra società se tu hai un piccolo buco in una maglia magari qui ma un piccolo buco un piccolo non parlo di una lacerazione un buco di mezzo centimetro e la gente va in paranoia e pensa no non posso metterla questa maglia non posso uscire con una maglia con un buco davvero si sentono come delle persone di basso valore si sentono come portatore di una vergogna e quindi giammai se te la vedono a te ma guarda ci tengono tanto a dirti che hai un buchetto in una maglia e a me viene da rispondere chi se ne frega purtroppo questa sapete questa cosa perché avviene perché siamo in una società superficiale dove davvero si sofferma sul dettaglietto insulso e poi si perde di vista la sostanza ma non solo per quanto riguarda l'argomento che spesso propongo si guarda il dettaglietto e poi non si vedono i problemi veri in questo caso è ancora peggio perché davvero quel buchetto non è un problema allora che cos'è una maglia cosa serve una maglia per coprirsi dall'interperie per non prendere freddo oppure per non girare completamente nudi per questione anche di igiene ok se tu hai una maglia distrutta e lacerata va bene non riesce neanche ad adempiere il suo compito per quale quell'abito sarà concepito ma se c'è un piccolo buco qui di due millimetri quale sarebbe il problema non esiste quindi non solo ci sono problemi peggiori non è proprio un problema se non in una società in cui tu devi avere abiti perfetti perché altrimenti se hai un bucanino nella maglia ma potrei dire anche nei pantaloni nei calzini sei uno che si presenta male e gli altri hanno una cattiva impressione di te un pochettino come io paragonerei questa cosa come quando si stringe la mano ti dicono ma guarda che devi stringere la mano in maniera un po più vigorosa se la stringi in maniera così molle poi l'altro non si fa proprio una buona immagine di te una buona idea di te pensa che magari sia un po' floscia come persona come sempre ritorna quello che gli altri pensano di te la gente vive preoccupata solamente di una cosa quello che gli altri pensano di me quello che gli altri pensano di me ma se vivete preoccupandovi in questo modo di quello che gli altri pensano di voi vi danno notizia non vivete fate finta di vivere o per meglio dire vivete una vita non vostra e andrete incontro all'infericità più radicale poi attenzione non voglio colpevolizzare chi non riesce a fregarsi del giudizio del parere altrui però perlomeno a livello razionale è fondamentale comprendere che non va bene vivere ok cercando di ottenere l'approvazione altrui comprendetelo razionalmente siete già a metà del percorso perché se invece ignorate l'importanza di capire questo non avete chance di guarigione perché è una malattia a mio avviso è una malattia tra le più gravi e gli altri sono il metro del tuo valore se gli altri dicono che tu vali vali se tanti altri dico che non vali non vali no siete voi che dovete stabilire se valete o meno e non certamente per le maglie che indossate io potrei capire se una persona si presenta con maglie sporche puzzolenti con così come anche il proprio corpo sporco e puzzolente allora quella può essere già una cosa più problematica perché comunque puzzare non è bello ma proprio anche per se stessi ti senti puzzare dopo un po' una voglia di lavarsi perché non è bello sentirsi puzzare figuriamoci quanto possa essere sgradevole sentire qualcun altro puzzare io non parlo ovviamente in un'ottica occasionale può capitare a tutti di aver sudato non avevo la possibilità di lavarsi o essere se ne dimenticate io parlo di una persona che abitualmente puzza è chiaro che in quel caso è anche forse una mancanza di rispetto fuori dell'altro perché ti presenti in condizioni che creano comunque un fastidio all'altro ovviamente se guardo l'essere umano medio in questo caso si posso parlare di problemi più gravi o meno gravi l'essere umano medio è talmente sporco dentro a livello mentale talmente puzzolente mentalmente parlando che anche un barbone che non si lava da un anno forse è un po' più gradevole dell'uomo medio però a parte questo doveroso discorso al di là di cosa è peggio e tante cose sono peggio non è comunque bello puzzare a me è una persona che sempre puzza e quindi è ottimo adoperarsi per essere non dico super profumati con ovviamente chanel numero 5 però semplicemente lavati con vestiti non maleodoranti ecco quella potrebbe essere una questione per cui avrebbe senso farsi dei pensieri no mi devo lavare cazzo devo lavarla questa maglia non il bucanino perché il bucanino non puzza il bucanino non c'è nessun disagio all'altro bucanino è semplicemente un bucanino e se gli altri sono folli perché sanno soltanto dare importanza all'abito e non conoscono il contenuto è un problema loro che poi nemmeno perché qui non è questione di dare importanza al contenuto anche perché anche per quanto riguarda l'abito in sé davvero non è nulla di antestetico quel bucanino ma davvero un bucanino è antestetico c'è gente vi giuro che se scopre il bucanino butta via quella maglia quel pantalone se non è possibile non so rimediare in qualche modo con toppe o cucendolo no toppe direi no perché se ti metti una toppa è anche quello a toppa ma che figura fai andate a fare in culo le figure il pensiero altrui mamma mia scusate se mi pulisco la bocca ma mi pizzica tutto quando penso alla melma umana e quando io avverto nell'aria questa mentalità vi giuro mi viene voglia di uscire solo esclusivamente con quelle due tre magliette che hanno qualche bucanino cioè a me non c'è io questo forse uno potrebbe dire esagero no perché dinanzi alle stronzate occorre ribellarsi in modo per ribellarsi a guardare il mio bucanino io te lo butto in faccia perché davvero non è un problema se io frequento una ragazza e lei ha un bucanino nella maglia ma davvero ma chi se ne frega non solo è un piccolo bebe non lo è proprio è un po come dire uscire con una ragazza che anziché averlo smalto perfetto in tutte le unghie l'unghia ha lo smalto un pochettino rovinato ma è un problema io davvero non ci credo che ci sia bisogno di parlare di queste cose non ci credo davvero devo anche andare oltre sono persone che si vergognerebbero come me di dire io molte delle maglie che ho le eredito dal mio zio ma che figura fai cosa fai porti cose che hanno portato altre e allora le lavo sono in ottime condizioni anche quelle con i bucanini sono in ottime condizioni poi quando sono lacerate magari quelle maglioni di lana tutti consumati con tutti i pallini allora butto via anch'io o dono ai ai bisognosi però basta con tutta questa apparenza con questa con questa fissazione per il look e ripeto va oltre ma oltre questo perché perché davvero uno con un paio di pantaloni una maglia che hanno un bucanino può davvero comunque avere un look gradevole lo stesso oltre fatto che vestiti dovrebbero essere caratterizzati soprattutto dalla comodità non dal fattore estetico che tra l'altro mediamente non è mai il proprio gusto estetico ma è quello che va di moda e quindi non vi accoggete nemmeno che cose di cui vi vergognate oggi potrebbero essere cose di cui vi vanterete domani essere schiavi delle mode significa proprio essere degli uomini medi quindi dei coglioni tutto qua un video abbastanza leggero ma anche no alla fine tutte le tematiche che parlano di realtà di uomini di comportamenti umani sono fondamentali per avere presente la realtà e non farsi rapire dal tristissimo delirio collettivo un abbraccio commentate se vi va e condividete se vi è piaciuto questo video in generale vi piacciono i miei video su youtube potete abbonarvi al mio canale c'è tastino abbonati qua sotto oppure potete aderire alla mia pagina patreon che è nel primo commento a partire da un euro e aderirete scusate potrete entrare immediatamente nel gruppo whatsapp degli eroi delle rovine un abbraccio ciao se ti piace il mio canale e vuoi che continui per sempre a fare video puoi sostenermi aderendo al mio patreon con donazioni a partire da un euro al mese per farlo è semplicissimo basta aprire la mia pagina patreon cliccare in alto a destra su become a patreon attendere pochi istanti e scegliere se donarmi 1 2 5 10 20 o 50 euro al mese il gruppo whatsapp degli eroi e delle eroine e altri contenuti esclusivi ti aspettano per aderire o per saperne di più trovi il link in sovraimpressione nel primo commento o nei titoli di coda